Un porto un po' come il cane, poi se ne nasconde, le ossa, poi se le fa rimangiare, è un canide. Senta, mi spiega questa storia dell'acqua qui, io non l'ho capito. Eh, qui c'era, quando c'era banca c'era un laghetto. Qui era tutto ricoperto d'acqua? Sì, era tutto ricoperto d'acqua. Questo comunque è il punto più basso, dove l'acqua tende a... Ma è strano che in 80 anni nessuno abbia mai, no? Questo punto più basso, perché i tuoi che hanno detto, vabbè, è stata scavata la grotta... Michelangelo, questo è un coccio o è un osso? Michelangelo, lì c'è un coccio o è un osso questo? Sarà un osso, non lo vedo da qui, ma i cocci non ci stanno...